Se un giorno ritornassi da me, sarebbe un colpo ancora, se lasciessi ancora la tua voce, dal silenzio che ci torna a me, dal silenzio che ci torna a me, sarebbe un colpo ancora, se un giorno ti accorcessi che tu non hai dimenticato, sai dove trovarmi se vuoi, qui il tempo non trascorre mai, qui il tempo non trascorre mai, dal giorno non ci spede più. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito, Sai dove trovami, signori, qui il tempo non trascorre mai e qui il tempo non trascorre mai da quando non ci stesse lì e quando non ci stesse, non ci succede più e quando non ci stesse, non ci stesse lì e quando non ci stesse lì e quando non ci stesse lì e quando non ci stesse, non ci stesse lì Grazie